Non ti avvicinare oltre. Ehi! Non posso batterti! Un'altra... E' vera. Ho già passato abbastanza tempo sottoterra, ma se tu vuoi andare, io ti seguirò. Cosa è successo di aver sentito qualcosa? E' questo! E' fare di meglio! Mi arrendo! Fai... Fatto e fatto. Ehi. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.